Nuovi progetti in cantiere per i giovani studenti licatesi, impresa, modellazione e nello specifico nel campo della modellazione tridimensionale. A darne notizia oggi è l'associazione Startup Plus di Licata che giovedì prossimo 23 aprile alle ore 9 presso l'auditorium dell'istituto di istruzione superiore Ines Giganti Curella incontrerà gli studenti delle quinte classi per discutere con loro di impresa, modellazione e nello specifico di modellazione 3D. Si tratta di un appuntamento nel corso del quale gli attivisti di Startup Plus potranno dialogare con gli alunni e spiegare loro tutte le possibilità che il mondo del lavoro offre nel campo della modellazione tridimensionale. Gli studenti saranno inoltre informati anche su quelle che sono le possibilità di emergere creando innovazione attraverso lo sviluppo informatico. Tra le possibilità, spiegano i membri dell'associazione, rientra un progetto di Open Innovation di Telecom Italia. Si tratta di un progetto al quale gli attivisti per primi hanno partecipato lo scorso anno, ottenendo buoni riscontri. È per questo l'intenzione di divulgare questa opportunità ai più giovani, le menti del domani, dotate di idee e talento e metterli nelle condizioni di ottenere risultati importanti. Nel ringraziare per l'ospitalità il dirigente scolastico Maria Gabriella Malfitano, gli attivisti sottolineano l'importanza dell'incontro in programma giovedì in quanto si tratta di argomenti con i quali i giovani del terzo millennio devono iniziare a familiarizzare per restare al passo coi tempi e, concludono i membri, per iniziare a costruire il loro futuro.